Allora, l'attentato dov'è che l'hanno fatto? Qui davanti c'è la targa, là sul... Davanti al PAC? Sì. Ok, invece il delito Gucci? Nel palazzo davanti, quello rosa. Ah, quello rosa. In un'altra zona. Quindi la zona, lì davanti al PAC, che è quello che sto inquadrando adesso, quello bianco con le due cose a fianco, anzi no, dove c'è scritto Galleria d'Arte Moderna, c'è stato esploso la bomba. Sì. Invece quello rosa, è dove hanno ammazzato Gucci? L'abitazione di Gucci che è uscito la mattina, la moglie aveva assolvato il killer per sparargli e gli hanno sparato il killer. Vabbè insomma, una donna intraprendente. Sì, poi dopo sono arrivati appunto alla moglie e è tuttora ammazzata.